Sì. Allora, ieri sera ho scoperto che noi nella vita abbiamo un messaggio da portare in giro, non ho ancora capito quale è il messaggio, non ho ancora capito quale è il messaggio, non ho ancora capito quale è il messaggio. Non ho ancora capito quale è il messaggio. Non ho ancora capito. Non ho ancora capito.